Il primo accordo, che è questo qua, noi possiamo analizzarlo come un primo grado, che poi vediamo che si sposta a un accordo di do settima, che è la sua dominante, poi fa questo la bemolle settima, basso in mi bemolle, re settima per andare a questo accordo qua, che è re bemolle maggiore. Questa sequenza è molto interessante e può essere intesa così com'è, come ho detto, fa minore, primo grado, do settima, dominante, poi la bemolle settima, cos'è? È la dominante di quel accordo di re bemolle, quindi stiamo puntando a questo accordo qua, che è il sesto grado, quindi lo facciamo attraverso la sua dominante. Che è la bemolle settima. E per questo motivo qua ci va la nostra freccia. Voglio ancora sottolineare che questo c'è un'interpolazione, cioè qua ci sta anche questa freccia qua, che è la freccia tratteggiata, che mi indica un accordo molto speciale, che è l'accordo sub 5, cioè la sostituzione al tritono. Ovvero, questo è un accordo di re settima, che è la sostituzione al tritono dell'accordo di la bemolle. No, questo è... Questa è una interpolazione molto comune, prendere l'accordo di dominante, farlo un passaggio al suo accordo di sostituzione al tritono, in questo caso il re settima, per poi risolvere. Quindi, noi possiamo intendere che questo la bemolle settima risolve una quarta giù, oppure re settima, che risolve un semitono sotto. Entrambi gli accordi hanno funzione di dominante di questo accordo di re bemolle. Quindi, in linea di massima, nell'analisi, va bene, ogni singolo accordo avrà la sua funzione, avrà il suo grado all'interno dell'armonia, ma la cosa interessante è che ci stiamo spostando verso re bemolle maggiore, e lo usiamo una dominante, la sua dominante, no? Abbiamo due scelte da fare e l'autore ha usato tutte e due, ovvero la dominante e il sub-5, no? Allora...